un sistema molto pratico e veloce per andare a ridimensionare le nostre colonne oppure le nostre righe in base al contenuto delle celle praticamente il sistema più veloce e semplice è cliccare in alto a sinistra in questo quadrato così selezioneremo tutte le colonne e tutte le righe del nostro foglio di lavoro dopodiché allarghiamo una colonna più che possiamo e poi andiamo praticamente qui tra le due colonne e facciamo un doppio clic poi facciamo la stessa cosa sulle righe e ecco che otteniamo praticamente il ridimensionamento perfetto non facciamo subito il doppio clic tra le due colonne perché a volte può essere che la riga poi non riesca a schiacciarsi nel modo corretto quindi allargate bene una colonna, doppio clic tra le due colonne, doppio clic tra le due righe